Questa è la stanza dello sciamano. La stanza dello sciamano è la seconda stanza lungo il canocchiale lungo le sette stanze del canocchiale ed è una stanza che però è una sorta di perno simbolico dell'immaginario del castello. In questa stanza la cosa che ovviamente colpisce di più è la presenza di una serie di maschere e linee, sarebbero 14 ma una è finita nei sotterranei, nel limbo per l'esattezza, maschere e linee che rappresentano una serie di figure, divinità, ruoli delle tribù della costa del nord-ovest del Pacifico, in particolare delle tribù Nuchanult e Quacchutal. Queste maschere sono tutte scavate, scolpite in cedro rosso. Le maschere che sono qui dentro sono maschere che sono state tutte indossate. La maschera ha valore per gli indiani della costa del nord-ovest del Pacifico e alaskani se in qualche modo è stata parte di un rituale. Se non è stata parte di un rituale è roba così, non ha grande peso o importanza. Queste sono maschere che hanno partecipato a rituali, partecipato a rituali in varie funzioni. Per esempio, indicandole una per una, no, indicandole solamente alcune, c'è una maschera del capo, che è lì giù in fondo, con le penne d'aquila, perché probabilmente rappresentava il clan dell'aquila, e con il becco dell'aquila che esce fuori dalla testa e con quella caratteristica straordinaria che aveva tanto impressionato Levi Strauss, degli occhi sporgenti. E poi c'è la maschera Ucuc, questa lunghissima, che ovviamente viene indossata in diagonale sulla testa, in questo modo perché spezzerebbe il collo a chiunque, e che è la maschera dell'uccello cannibale, che ha un ruolo fondamentale nel rito di iniziazione dei giovani adolescenti, chiamato Hamazza. Il pazzo, il giullare, il narratore, il cattivo, fino alle figure, in un senso stretto, sciamaniche. Allora, chi è lo sciamano? Lo sciamano è un mediatore tra terra e cielo, è un mediatore tra le forze profonde degli inferi e ciò che sopra la nostra testa prende la forma ambigua e apparentemente rassicurante del cielo stellato. Lo sciamano è un gestore dell'opaco, è un traduttore dell'opaco, lo sciamano è un gestore dell'impuro rispetto a ciò che è puro, lo sciamano cioè è un essere della mediazione, della intermediazione, un essere che vive sul confine. Vivendo sul confine non può avere un'unica identità, sul confine non si parla mai una sola lingua sul confine, non si ha mai una sola identità, si hanno varie identità secondo come ci si muove di là di qua dal confine. E in effetti le teste sciamaniche che ci sono qui sono tutte teste in cui lo sciamano è preso nel momento potente dello sciamanesimo che è la trance, cioè il momento in cui lo sciamano è posseduto dalla forza che incarna e che esprime. Posseduto dalla forza significa posseduto da altre identità. Per esempio in questa maschera qui nell'angolo si può vedere nel volto una serie di altri volti che sono incistati nel volto e che sono le molte altre cose, figure, persone, identità che abitano il volto dello sciamano. Lo stesso per la maschera della luna qui nell'angolo dove piccole figurine in avorio, altre figure con il preziosissimo abalone del Pacifico, eccetera, danno la sensazione che quella faccia di luna non è la rassicurante luna che noi ci illudiamo di vedere, ma è una luna sciamanica, una luna che incarna molto altro. Queste sculture dello sciamano sono tra l'altro uno scultore molto noto, Rontelec, morto da poco, è uno dei grandi protagonisti del revival artistico delle tribù del nord-ovest, nel nord-ovest del Pacifico. Questa dunque è l'insieme delle identità molteplici, dei ruoli molteplici che costruiscono la figura, la realtà, il destino, la funzione dello sciamano. Naturalmente la stanza anche dell'altro, per esempio a terra, quasi una sfida alle grandi divinità del nord, c'è un tappeto anch'esso parzialmente sciamanico dei Navajo, della zona del New Mexico ed è questo tappeto a raffigurazioni molto geometriche, insolitamente grande, non fanno da tempo più tappeti così grandi, li fanno molto più piccoli, costosissimi, eccetera, e questo tappeto è invece l'apparente trionfo di una geometria, come se di fronte avesse invece l'apparente trionfo dell'opaco, del curvilineo e dell'informe. La stanza ha poi sopra un freggio che è un freggio di metamorfosi. Sono tutta una serie di scene, dalle metamorfosi di Ovidio, varie scene, rappresentate come una cavalcata orizzontale di figure in forte movimento e in forte dinamismo. Sono figure che sono nelle loro corpi quasi senza tratti distintivi, resi anonimi, resi parzialmente incerti nelle forme, rappresentano proprio l'informe capriccioso del manierismo avanzato. Un'ultima cosa che forse vale la pena riaggiungere, c'è un apparecchio fotografico, una view camera, un apparecchio fotografico a lastre che come un occhio guarda ciò che avviene nella stanza dello sciamano e ricorda lo sciamano che lo sciamano può essere a sua volta guardato e in qualche modo afferrato da altri che gli sono esterni. Ecco dunque questa strana stanza dello sciamano.